L'esecuzione di canti natalizi da parte del piccolo coro del Teatro Rendano di Cosenza ha dato il via alla cerimonia di scambio degli auguri di Natale tra il sindaco della città Mario Chiuto e i dipendenti della casa comunale Bruzia. Abbiamo avuto la sorpresa gradita del coro dei bambini del Teatro Rendano, è un coro che si muove all'unisono, i bambini che hanno offerto questa manifestazione così carina e così gioiosa ai dipendenti nell'occasione degli auguri di Natale ho detto ai dipendenti che bisogna essere un po' come i bambini, nel senso che tutti si muovono in questo caso insieme, sono un unico gruppo, il comune è una comunità di persone che lavora per altre persone, i dipendenti stanno lavorando bene a mio avviso insieme ai dirigenti, insieme alla giunta e all'amministrazione comunale per dare sempre un migliore servizio ai cittadini. Quindi un augurio sentito e un ringraziamento a tutti quelli che lavorano con noi e lavorano perché in questo momento difficile è necessario pure stare non solo vicino alle persone ma anche cercare di dare il meglio per offrire dei servizi migliori. Brindisi, dolci natalizi e scambio di auguri hanno concluso in un'atmosfera di condivisione e serenità un bel momento conviviale. Brindisi, dolci natalizi e scambio di Natale,